Grazie a tutti Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oggi in studio il consigliere del Partito Democratico Giacomo Leonelli e la consigliera, voglio usare il femminile anche se la questione è molto dibattuta, Maria Grazia Carbonari per il Movimento 5 Stelle. È la prima trasmissione dopo una breve pausa che ha coinciso con il periodo di agosto, ma le questioni politiche non sono andate in vacanza. Ad agosto si è parlato molto, forse anche la stagione lo richiede, di trasporti. In Umbria sono fioccate polemiche politiche che riguardano questo settore. Vorrei prenderlo dalla cosa numero uno, diciamo. La ferrovia centrale Umbra chiuderà a giorni. Ma la domanda che tutti si pongono, e io la giro ai consiglieri regionali perché è una questione piuttosto importante, la ferrovia Umbra, è una chiusura oppure è una chiusura per ripartire? Allora, cosa ne sa il consigliere Giacomo Leonelli e che prospettive ci sono per questa importante struttura Umbra? Ma dunque, importante, lo condivido con lei, purtroppo secondo me non è stata così importante come avrebbe meritato. Perché la ferrovia centrale Umbra ha una linea che collega al nord e al sud dell'Umbra, che la taglia in maniera verticale. Ecco, io direi che intanto una riflessione dovremmo farla sul fatto che la ferrovia centrale Umbra non è stata considerata mai così prioritaria da nessuno. dalla politica, maggioranza e anche opposizione, dalla classe dirigente regionale, ma anche dagli stessi Umbri, che non è che chiaramente hanno mai utilizzato questo servizio, se non appunto i pendolari o gli studenti, ma insomma non è che ha mai avuto quella valorizzazione che avrebbe meritato tenuto conto appunto della linea. Cioè una ferrovia che collega a città di Castello, di fatto a Termi, passando per Perugia e per tutti i comuni, diciamo, dell'area centrale della regione. Quindi ecco, probabilmente noi ci troviamo in una situazione rispetto alla quale se si fosse considerata prioritaria prima, no, la ferrovia centrale Umbra, se fosse stato oggetto di un disegno strategico, ma non parlo degli ultimi due anni, parlo dei precedenti 30-40, sicuramente oggi avremmo una struttura diversa, un'infrastruttura diversa, che sarebbe anche prioritaria per la mobilità degli Umbri all'interno della nostra regione, così come magari oggi non è. Secondariamente credo che le parole dell'assessore Chianella siano abbastanza chiare, nel senso, lui dice, ne facciamo un passo indietro oggi per farne due avanti domani. È chiaro che la ferrovia centrale Umbra è stata anche oggetto di un importante accordo tra regione e governo, che prevede decine di milioni di euro, mi pare oltre 60, per l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'infrastruttura. È chiaro che il giudizio, secondo me, al di là dei disservizi arrecati e pendolare agli studenti, sui quali mi pare che si sta tentando di intervenire con mezzi su gomma, il giudizio finale sarà l'esito di questa riqualificazione e intervento che farà chiaramente Rete Ferroviaria Italiana insieme a regione e governo. Cioè, è chiaro che noi una valutazione finale sul tema FCU ce l'avremo quando questo intervento verrà realizzato o meno, perché è evidente che se dovessimo avere da qui a un anno e mezzo, due, un'infrastruttura veramente capace di collegare i due capoluoghi in, dico per dire, meno di un'ora, che taglia, appunto, che collega alcune città importanti come Umberte, Città di Castello, Perugia, Marciano, via discorrendo, insomma, avremmo sicuramente un giudizio di merito positivo. Ove non fosse, avremmo un giudizio di merito negativo, fermo restando che oggi vanno limitati al massimo e di servizi per i pendolari, per quelli che usano il mezzo. Sì, pendolari e studenti, ma naturalmente tutti, perché poi il trasporto su gomma intasa le arterie stradali che già non hanno bisogno di ulteriori passaggi, quindi struttura comunque strategica. Cosa ne pensa invece Maria Grazia Carbonari? Perché qui è stato lanciato un po' FCU chiude. In realtà, il consigliere Lonelli ha già detto, c'è una strategia di chiusura per riaprire meglio di prima. La difficoltà è in questa fase in cui appunto la gente si sta chiedendo, ma è sparito il nostro treno? Insomma, ci sono obiettive e difficoltà per molti. Allora, guardi, la verità, quello che ha detto il consigliere, su quello che potrebbe succedere, sul fatto che è un passo importante il fatto di aver ottenuto questi 51 milioni di euro, perché 12 sono della regione, è sicuramente, esatto, il 63 in tutti, è sicuramente una cosa positiva. Però io credo che sia opportuno guardare indietro. È giusto anche che la ferrovia centrale Lumbra non è stata mai considerata strategica che è importante da queste amministrazioni, però ricordo che a guidare la nostra regione c'è stato sempre il Partito Democratico. E mi domando pure... E' nel 2007 il Partito Democratico. E mi domando... va bene, e per chi c'era prima, no? Chi c'era prima? A centro-sinistra. Però mi domando pure, ma di tutti questi fondi che negli anni sono stati, diciamo, dal 2010 in poi la regione ha erogato a Umbria Mobilità per fare le manutenzioni, per che cosa sono stati utilizzati? Poiché il 3 luglio, se non erro, l'audizione in seconda commissione dell'ingegner Fagioli ha parlato chiaro, 8 anni, 8 anni che non si fanno manutenzioni straordinarie, di tutti i soldi trasferiti, che dovrebbero essere circa 5 milioni l'anno, di cui 2 destinati alle manutenzioni, quindi 8 per 2 fa 16 se fossero questi numeri, bene, sono stati spesi solamente negli ultimi due anni tipo 700 mila euro, di cui 450 per il taglio della vegetazione. Ora, quindi, se da 750 togliamo 400 mila, 450 per il taglio di vegetazione, vuol dire che negli ultimi anni sono stati spesi 300 mila euro per la manutenzione della struttura. E allora qui è il problema. I nostri funzionari regionali hanno ogni anno firmato l'erogazione di fondi che dovevano essere targati e servire per la manutenzione e che non sono stati utilizzati per quello. E fino ad oggi, fino ad oggi, nessuno ha proferito parola su questo. Perché se fossero state effettuate le manutenzioni, oggi non ci sarebbe stata la chiusura. Chiaro, non ci sarebbe stata, no? 8 anni di mancanza di manutenzione, ma era nell'aria che, insomma, avrebbe chiuso questa ferrovia. Perché quando la velocità da 30, da 30 chilometri all'ora, che ci arriverà forse un'ape, forse ci arriva, arriviamo a 10, signori miei, a 10 ci vado io correndo, eh. Ecco, la situazione era questa ed era ormai nell'aria che avrebbe chiuso. Quindi, benissimo se, tra, quando, quanto prima verranno fatti i lavori e verrà riaperta, però io ormai alle parole ci credo più poco. Perché? Perché vi dico anche che nel tratto Ponte San Giovanni, Perugia Sant'Anna, Perugia Sant'Anna, dove dichiaravate che i soldi erano pronti, disponibili, lo dicevate già nel 2015 e 16, avete chiuso a febbraio, i lavori non sono ancora iniziati, non sono ancora iniziati, un video diceva che c'erano nati pomodori, cioè là, non sono iniziati i lavori. Allora io mi domando, ma tutti questi proclami, i soldi erano a disposizione, bene, perché non sono iniziati i lavori? Qualcuno dice, mi sembra proprio l'assessore Chianella nella sua conferenza stampa dopo la chiusura, che non è stato firmato il contratto. Signori, questa è una scusa, perché il fatto che non sia stato firmato il contratto, vuol dire che c'è qualcos'altro dietro, perché io voglio sapere il perché non è stato firmato il contratto, questo voglio sapere e chiaramente ho fatto subito anche un'interrogazione che andrà per il prossimo question time del 12, ma non mi voglio sentire rispondere, non sono partiti i lavori perché non è stato firmato il contratto, no, voglio sapere perché non è stato firmato il contratto e è stata chiusa. Ecco, quindi la situazione è grave secondo me, purtroppo proviene dal fatto che le manutenzioni, come dicevo, non sono state fatte e mi domando anche perché non sono state fatte. Allora, Umbria Mobilità, sappiamo, vive un periodo gravissimo di crisi, ha vissuto, da quando è nata, dove si prevedevano forti risparmi, razionalizzazione degli oneri e tutto, e ad oggi abbiamo visto che purtroppo varie situazioni hanno portato a una crisi finanziaria tale che probabilmente ha determinato la mancanza di fondi per poter fare le manutenzioni. Però ricordo che se io, Regione, trasferisco sulla base di un contratto di servizio dei fondi per fare manutenzione, tu, Umbria Mobilità, li devi utilizzare per fare la manutenzione, non per altre cose, perché io te li do per fare la manutenzione. Ecco, purtroppo questo non è stato fatto, vedremo le responsabilità. Mi auguro che a breve partirà questa commissione d'inchiesta, che è stata istituita grazie al voto di tutti e anche del Partito Democratico. Unica nota che voglio dire è che purtroppo solo sei mesi, solo sei mesi, è stato prorogabile, perché credo che anche il Partito Democratico abbia ormai l'intenzione di fare piena luce su quello che è successo. E piena luce la dobbiamo fare, perché i problemi di Umbria Mobilità, io penso, ho fatto alcune analisi, ho analizzato alcuni documenti, non è di oggi. È un problema vecchio, è un problema che nasce da antifusione. Da quando alcuni dirigenti, e questo ve lo devo far vedere, prendevano 400 mila euro, 400 mila euro, allora, e ve lo devo dire, Nello Spinelli, Minimetro, 404 mila euro, e altri due persone del Minimetro, 95-80, Paolo Paduano, 370 mila euro. Allora stiamo in Umbria, non possiamo chiudere la stalla dopo che sono scappati i buoi. Chiaro? Sono arrabbiatissima su questo. È un fiume in piena su questa questione. Non è possibile utilizzare i soldi pubblici in questo modo. Basta, però non dico nient'altro, perché potrei parlare ore. Il concetto è chiaro. Do diritto anche di replica al consigliere. Diciamo che cerco di fare una replica molto sommaria, nel senso che, ripeto, su FCU l'abbiamo detto, nel senso è evidente che se si fosse considerata strategica, ma non da parte solo della politica, perché poi qui ci sono chiaramente, c'è una classe dirigente, ci sono categorie economiche, ci sono anche sindacati, insomma, se si fosse considerata strategica l'FCU 25, 30, 40 anni fa, probabilmente non saremmo a questo punto. È stato, purtroppo, considerato sempre da parte di tutti un trasporto residuale, cioè proprio per chi non aveva macchina, per chi non poteva fare diversamente, per chi non aveva il ciclomotore, per chi proprio non poteva muoversi diversamente, e questo purtroppo poi è stato, oggi, sono arrivati al pettine alcuni nodi. Sulla manutenzione, chiaramente, poi ci sono anche delle gare da palto, vanno fatte, la consigliera Carbonari sa bene che è anche partita complicate, purtroppo la burocrazia non sempre aiuta la celerità degli interventi, ma al di là di questo, io ripeto, su FCU, io penso, al di là del tema dei disservizi sui quali dobbiamo intervenire per limitarli al massimo, dobbiamo, deve intervenire, chiaramente, la Bus Italia, di concerto con l'assessorato della Regione, tutto quanto, ma il giudizio di merito va posticipato, come va posticipato su tante altre questioni rispetto ai trasporti. In questa stanza si è parlato molto di trasporti, che è un tema che a me ha passione, perché io penso che l'Umbria, per guardare al suo futuro, debba pensare a uno sviluppo, chiaramente, del settore privato, che deve essere, per forza, chiaramente, aiutato da un sistema infrastrutturale funzionante e efficiente. Ora, vogliamo dire... Non solo della ferrovia centrale, ma si è parlato molto anche delle frecce, bianche, rosse... Certo, allora, io sono il primo firmatario di una mozione, insieme agli altri colleghi del PD, su freccia rossa. E cioè, colleghiamo l'Umbria all'alta velocità. In questi giorni mi si dice che l'assessore sta interloquendo con i vertici nazionali di FS e governo per capire come portare freccia rossa in Umbria. Attendiamo notizie. Dopodiché, non è che possiamo pensare che, se il freccia rossa oggi non è in collega l'Umbria, o l'Umbria ha un complesso di trasporto su ferro non efficiente, non al pari delle altre regioni, il problema è degli ultimi due anni. Cioè, quando, 30-40 anni fa, voglio dire, dalle strade alle autostrade, alla linea ferroviaria, anche di più, diciamo, ma si è deciso che questo settore non doveva essere strategico per l'Umbria? Poi, chiaramente, i nodi vengono al pettine. Dopo, aeroporto. Altro elemento. L'aeroporto, se ne è parlato anche di questo, e ho letto di alcuni disservizi per qualche turista all'aeroporto di Olbia, per una compagnia che ha soppresso i voli, e dopodiché l'aeroporto di Perugia è un aeroporto che, negli ultimi anni, al contrario di quelli del centro Italia, perché sono indebitati per milioni e milioni di euro, mi pare Ancona c'è oltre 40 milioni di euro, Rimini di fatto è prossimo, o quantomeno, diciamo, è pronto a portare, come mi hanno così comunicato, i libri in tribunale, o comunque sia, è su una situazione di grande difficoltà. Quindi non è che gli aeroporti italiani viaggiano nell'oro. Perugia ha di fatto azzerato il debito, quindi per la prima volta chiederà l'esercizio in termini positivi. Ora il problema è capire se questi vettori che sono stati promessi su Amsterdam, Milano-Linate, il Sud, quindi la Mezzia-Brindisi, partiranno o meno. Se dovessero partire, io penso che non potremmo che danno giudizio positivo. Se non dovessero partire, non potremmo che dare un giudizio negativo. Però ecco, magari, aspettiamo 15 giorni, 20 giorni, vediamo quello che accade, perché se no, anche i colleghi dell'opposizione, dopo aver gettato tutto questo fango addosso al tema, per esempio, dell'aeroporto, dovranno poi ricredersi magari e dire invece no, tanto male così. non è perché l'aeroporto che chiude in positivo aumentano i passeggeri. Peraltro, noi, l'anno scorso, che è l'anno del terremoto, mi si dice che l'aeroporto di Perugia ha comunque, nell'anno del terremoto, registrato un più 18% rispetto all'anno precedente di passeggeri. Quindi, non è che non c'è una programmazione. Certo, attendiamo di vedere l'esito delle cose. Poi, sul resto, ripeto, purtroppo il tema dei trasporti è un tema che sintetizza come in questa regione si è pensato per troppo tempo, diciamo, di ammucchiare i problemi da una parte e poi oggi vengono tutti al pettine. Non è un caso che oggi si affronta il tema del Frecciarossa, si affronta il tema dell'FCU, si affronta il tema dell'aeroporto, ci si prova con uno minimo di programmazione sapendo che sicuramente la situazione negli anni si è ingarboiata. Io ho parlato di vecchi e polverosi nodi che vengono al pettine. Poi, è chiaro che qualcuno deve sbrogliarli. Se li sbroglia, dovrai dare un giudizio positivo, se non li sbrogli, non dovrai dare, chiaramente, un giudizio positivo. Sul discorso che faceva, e chiudo, il discorso che faceva la consigliera sui stipendi dei manager, è vero, ha ragione. Sa quanto prendono oggi i manager di Umbra Mobilità nell'ultimo esempio? Mi pare che tutto il consiglio di amministrazione sta sotto i 250-300 mila euro, però è anche vero che 10-15 anni fa prendevano 2 milioni di euro, se sommi tutti gli stipendi. Allora, il problema è di oggi, cioè di quelli che ci sono oggi che stanno provando in qualche modo a rimettere in sesto la carreggiata, o quelli che, diciamo, 15-20 anni fa hanno magari firmato quei contratti e nessuno si è posto il problema che, insomma, non poteva funzionare una società dove, appunto, solo i manager prendevano 2 milioni di euro, non poteva avere, diciamo, conti virtuosi. Ecco, questo è il punto. considerazioni importanti che è bene sottolineare fare per chi in questo momento magari si trova in Represe con problemi enormi che ha ereditato. Questa era la premessa che entrambi avete fatto su questo delicatissimo settore. Carbonari, vedo che... sull'aeroporto, volevo dire. La sua documentazione con carte e foglie? No, 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 sull'aeroporto no. Sull'aeroporto? No, devo dire che ho sentito che il mio collega ha detto che l'opposizione ha sparato e ha scritto. In realtà non credo che il consigliere abbia letto qualcosa che ho scritto io perché io prima di scrivere e sparare a zero mi leggo i documenti. Quindi su questo non ho sparato poiché, anzi, il giorno dopo che è uscito l'articolo sul giornale ho mandato una richiesta al Presidente della Seconda Commissione di portare in audizione il Presidente della SASE per capire da lui quali sono stati i problemi perché bisognerà ascoltare tutte le campane, no? Io non sono come quelli che dicono ascolto quella campana e poi prendo e sparo, no? Bisogna ascoltare tutte le campane e documentarsi sufficientemente perché alcune volte magari le informazioni possono arrivare modificate o non complete, documentarsi bene e poi parlare. l'unica cosa che vorrei sottolineare che se non so però se è vero perché è una dichiarazione che ho trovato sul giornale dove la Presidente di una Camera di Commercio mi sembra Camera di Commercio di credo di Perugia dica che queste due compagnie che hanno in qualche modo non hanno garantito quei voli è una perché l'altra doveva partire esatto però dice la dichiarazione di questo funzionario che non sono state fatte che non avevano i permessi per volare allora domandava ma la SASE le ha fatte le visure prima di firmare questi accordi e io qui sono rimasta a dire ma questo mi sembra un errore banale no? qualsiasi azienda piccola medio grande che sia prima di fare un accordo con un'altra beh quantomeno una visura per capire ma quali sono i permessi che ha il soggetto ce li ha i permessi per poter operare o comunque fa questa valutazione quindi detto questo però apprendo che solo da notizie di giornale quindi aspetterei di sentire il direttore il Presidente della SASE per capire veramente come stanno le cose e poi magari ci facciamo un'idea più importante su questo argomento io spero io l'ho chiesto l'ho chiesto al giorno dopo che è uscito l'articolo sul giornale volevo cambiare l'argomento perché l'abbiamo monopolizzato con i trasporti ma riaprono anche anzi le chiedo anche ci sarebbe da dedicare una trasmissione interamente per l'FCU perché penso che sia dovuto agli Umbri che debbano conoscere completamente e da anche con l'assessore presente per carità speriamo che ci siano novità importanti vorrevo dire all'ordine del giorno c'è anche la riapertura delle scuole in estate è stato messo in sicurezza il problema asili perché l'assemblea legislativa è intervenuta e per gli asili i problemi sono stati rivolti poi di questi giorni invece una rivolta dei presidi che dicono noi non ci prendiamo la responsabilità perché sull'edilizia scolastica molto è da fare non sono quisquilli e leonelli perché si tratta di milioni di euro da investire quindi ci vuole una pianificazione che non si risolve dopo domani diciamo qual è questo? sui asili sì non è che la regione è intervenuta dici così perché alla fine la regione è intervenuta perché in alcuni comuni c'era stata una totale e palesina adempienza in particolare il comune di Perugia se la regione non fosse intervenuta con quella norma i primi di agosto che abbiamo votato in consiglio regionale che ha prorogato a 2020 la possibilità di intervenire noi avremmo avuto la situazione per la quale a Perugia il 40 intorno al 40% degli asili che sono 6 su 14 non è che parliamo dei numeri così non potevano riaprire adesso a settembre ottobre perché non avevano diciamo fatto gli interventi che avrebbero dovuto fare in tre anni 2014-2017 hanno avuto questo arco temporale e non erano stati fatti per cui grazie a questo intervento legislativo della regione che abbiamo votato noi in consiglio regionale è stato possibile prorogare diciamo la possibilità per i comuni di fare l'intervento quindi diciamo abbiamo in qualche modo sopperito a una carenza dell'amministrazione in particolare del comune di Perugia visto l'impatto detto questo sul resto io ho parlato con l'assessore Bartolini ieri sera c'è un ragionamento che è evidente dunque inizia scolastica la programmazione sta in capo la regione e diciamo l'attività concreta sta in capo provincia per le scuole medie superiori e comuni le altre scuole c'è stato un problema c'è stato un problema nazionale di chiamata alla responsabilità dei presidi che si sono chiaramente mobilitati cioè noi non possiamo essere responsabili se poi abbiamo delle strutture non adeguate e dovesse accadere qualcosa so che però diciamo da questo punto di vista c'è un confronto aperto con i presidi e con i sindaci e l'assessore Bartolini insomma mi raccontava una certa fiducia nel poter trovare un accordo una sintesi su un tema che chiaramente sta a cuore ai presidi ma sta a cuore alle famiglie anche a noi genitori diciamo soprattutto più che ai presidi solo dal punto di vista come funzionari e come responsabili in senso stretto Carbonari sull'istruzione mi dispiace ma devo sempre guardare indietro allora io vorrei dire quanti soldi sono arrivati quanti fondi sono arrivati alla regione Umbria per il vecchio terremoto una quantità enorme e ai tempi non c'è stata la possibilità di mettere in sicurezza gli istituti scolastici ora quindi che il territorio colpito dal terremoto sì e mi che detto e mi che detto perché a Foligno non è successo così allora io dico no allora allora cioè voglio dire a mio parere comunque cioè non possiamo lavarci le mani di quello che è successo fino adesso cioè non possiamo noi siamo in un territorio che è soggetto a terremoto cioè abbiamo questo problema allora però non è che dobbiamo intervenire dopo no bisogna fare appunto una programmazione ma non lo dobbiamo fare oggi dobbiamo partire prima sì ma in generosa perché comunque ma perché in generosa riconoscono tutti che rispetto alle altre regioni colpite dal sisma tutti riconoscono tutti gli analisti tutti gli esperti riconoscono che la ricostruzione è stata fatta meglio che nelle altre regioni colpite dal sisma tanto che non è la regione dove si concentrano le maggiori tragedie adesso lo vogliamo dire ma sono d'accordo e sono contenta che non ti so allora però su questo siccome non è che siamo su Marte ma abbiamo le Marche che confinano con noi l'Abruzzo che è poco più sotto il Lazio che confina con noi e si dice tutti gli esperti dicono che comunque l'Umbra è una regione dove negli anni sia del 97 che anche in questa fase la fase della ricostruzione è comunque più diciamo meritevole rispetto al resto anche perché poi i danni sono visti perché se diciamo succede quello che succede a pochi chilometri dai confini della regione e non succede a pochi chilometri di qua come appunto è successo chiaramente tra Amatrice e Norcia adesso la diciamo in maniera palese forse c'è anche stata una maggiore oculatezza e attenzione al rispetto del territorio nella fase di ricostruzione ma il tema è uno questi certificati li hanno gli istituti scolastici? allora no penso che sia ti l'ho spiegato è un problema nazionale non è un problema regionale mi permetta è un problema nazionale ma a noi interessa un po' di più rispetto magari a altre regioni però non è legato al tema del sisma cioè lei ha dirazzato diciamo rispetto al tema principale comunque a quanto ne so io c'è sarà c'è la prospettiva e su questa c'è una certa fiducia di trovare un accordo per intervenire nelle situazioni chiaramente più urgenti in quelle chiaramente che necessitano una manutenzione prioritaria e su questo dovrebbe chiudersi un quadro con i presidi con questa è una notizia questa è una notizia importante no soprattutto però che si tenga conto che comunque il nostro territorio ha questi problemi da qui in poi si è sempre tenuto conto di questo perché se no probabilmente avremmo versato molte più lacrime anche a Norcia a Cascia e nei comuni colpiti dal terremoto qualche mese fa mi auguro solo una cosa però basta sciacallaggio mi auguro solo una cosa sempre sciacallaggio basta ma sciacallaggio su che? ma su stavice non è il terremoto su stavice non è il terremoto rispetto alla ricostruzione io penso che sia interesse di tutti dire che l'Umbria comunque è una regione che ha fatto meglio delle altre sulla ricostruzione sulla messa in sicurezza perché guardi che se c'è stato crollo del turismo in Umbria è anche perché probabilmente se avessimo tutti detto che alla fine era una regione che comunque teneva e aveva tenuto meglio delle altre probabilmente avremmo anche avremmo anche diciamo tamponato questa ma ci siete voi al governo ci siamo noi ma se l'opposizione la fate voi e sparate anche diciamo sul tema su un tema come questo magari andrebbe non lo dico io lo dicono anche esponenti dell'opposizione che l'Umbria è stata più rigorosa sulla ricostruzione più seria delle altre che comunque quel modello è un modello che ha un suo valore tanto che bisogna dire non era del vero che anche chi ha visto le immagini di Amatrice se fa un confronto con le città Umbria il 6,3% del 6,3% ci ha avuto ragazzi e da chi dipende il fatto che il turismo no ma il turismo dipende dal fatto che io dico se il mesi saggio che è passato non è stato quello corretto che se anche voi aveste dato una mano diciamo non sempre della sterile opposizione ma magari riconoscendo tra le tante criticità che voi normalmente riconoscete ma che comunque l'Umbria è una regione dove anche la ricostruzione del 97 o anche la ricostruzione del 79 erano state fatte sicuramente in maniera adeguata e più dignitosa rispetto al resto probabilmente ma questo noi abbiamo contestato molto il discorso delle casette non il discorso del fatto delle ricostruzioni oggi mi sta su un altro ragionamento sulle costruzioni oggi mi parla di costruzioni non delle casette appunto e quindi noi abbiamo parlato del resto non delle ricostruzioni no no ora sta parlando delle ricostruzioni a me non ha parlato delle casette fino adesso ha parlato delle ricostruzioni ma appunto abbiamo finito il tempo va bene si è capito comunque le vostre posizioni si è capito il tempo è terminato purtroppo devo dire che la responsabilità non è solo politica un po' tutte le categorie devono farsi la loro assunzione di responsabilità per esempio anche quando si dice nuovo scosso di terremoto a Perugia uno pensa che Perugia la città di Piazza 4 Novembre è crollato qualche cosa quando non è mai accaduto siamo intervenuti su questo col tema del danno indiretto il governo ci ha riconosciuto per la prima volta la risarcibilità del danno indiretto quindi turismo fuori cratere grazie a una grande battaglia che ha fatto il PD a livello regionale e a livello nazionale usciranno i degresi tra poco e gli imprenditori potranno chiaramente se hanno avuto un fatturato ridotto di oltre il 30% anche fuori cratere accedere a un risarcimento questa è una grande vittoria bene mi secca interrompervi proprio mentre il dibattito si scaldava però siamo fuori tempo massimo non posso non mi resta che salutare i nostri telespettatori e dare appuntamento la prossima settimana ringraziando Giacomo Leonelli per il Partito Democratico e Maria Grazia Carbonari per il Movimento 5 Stelle arrivederci